Un morto e tre feriti di cui due in gravi condizioni, questo è il bilancio delle esplosioni avvenute in un appartamento nel centro storico di Corleto Monforte a causa della foruscita di gas da una bombola per uso domestico. La vittima è un settantenne Mario Salerno, originario del centro salernitano ma residente ad Asti, rientrato a Corleto per qualche giorno di vacanza. Salerno si trovava a casa del consuocero Rosario Cancro, quest'ultimo proprietario dell'immobile è rimasto gravemente ferito con l'80% del corpo ustionato. Ferite anche due anziane donne, la madre di Cancro e la suocera, annunziata Farina di 95 anni, quest'ultimo in modo più serio. L'abitazione è un unico piano, si trova nel cuore del piccolo paesino salernitano, le palazzine adiacenti non hanno subito danni, i primi soccorridori da intervenire sono stati due giovani che abitano nelle vicinanze, a questi si sono aggiunti altri abitanti di Corleto che nonostante i calcinacci e la pericolosità del luogo sono entrati in casa pur di soccorrere le vittime. Le due donne sono state fatte uscire da una porta d'ingresso e dal balconcino mentre Rosario Cancro è riuscito a muoversi da solo, nonostante fosse in gravissimi condizioni è apparso a cosciente. Anche quando è stato trasportato con l'eli soccorso il reparto grandi ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli ha anche risposto alle domande dei soccorritori. Sul posto i carabinieri della stazione di Bello Sguardo, il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sala Consilina, il SIS, nucleo investigativo ed i vigili del fuoco. Una esplosione che ha gettato nello sconcerto e nel dolore tutta la comunità di Corleto. Il sindaco Antonio Sicilia ha ricordato che Mario era tornato da Asti dove vive per qualche giorno di vacanza dal consuocero. Sicilia ha parlato di una fatalità imprevedibile della quale Corleto non ha ancora preso coscienza. Una tragedia immane, da qui la vicinanza espressa dal primo cittadino alle due famiglie in questo momento di dolore.